Uno stabile al civico 18 di via Orsi nel quartiere Vomero a Napoli è stato evacuato nella notte in via cautelare dopo l'accertamento di problemi di ordine statico. Due pilastri dello stabile composto da sette piani fuoriterra hanno riportato uno schiacciamento con problemi che si sono riversati a cascata su tutto l'edificio. Mentre proseguono gli accertamenti tecnici in merito alle cause di cedimento è già al lavoro da questa notte una ditta privata incaricata dal condominio di provvedere alle prime necessarie opere di puntellamento del fabbricato. Immediato l'intervento sul posto di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. L'assessore alla sicurezza urbana del comune di Napoli Antonio De Jesu presente sul posto fino a tardanotte in stretto contatto con il sindaco Gaetano Manfredi ha assicurato i necessari collegamenti tra gli uffici comunali anche per garantire assistenza ai 36 nuclei familiari sgomberati. Quasi tutte le famiglie hanno optato per una sistemazione autonoma mentre una coppia e una studentessa sono stati alloggiati dal comune presso una struttura alberghiera. Rimane aperta al traffico via Orsi con limitazione solo al transito dei mezzi pesanti deviati su via Niutta, piazza Muzzi e via Gigante. Hanno detto che sono stati fatti dei lavori e c'è un pilastro ammalorato al quinto piatto appartamento di ristrutturazione. Come si sia stato ammalorato questo non lo sapremo. Ci sono state delle crepe probabilmente anzi quasi sicuramente collegate ai lavori in corso si vede l'acceleratezza di questo cantiere improvvisato e purtroppo hanno trovato una brutta sorpresa. Tirati dal letto, dalla tavola in pochi secondi adesso vediamo che cosa succede. Sicuramente stanotte purtroppo dovranno stare fuori per motivi però essenzialmente di sicurezza rispetto a quella che è una oggettiva difficoltà.